Una bambina di 12 anni e la nonna di 86 sono rimaste intossicate dopo aver mangiato una manita falloide, scambiandolo per un fungo commestibile. La bambina è stata trasferita dall'ospedale di Arezzo al pediatrico Meyer di Firenze con l'elicottero Pegaso. La nonna invece è stata trasportata dall'ospedale della Fratta a Careggi. Entrambi gli ospedali sono muniti di un centro antiveleni. Nonna e nipote erano state accompagnate dai familiari con importanti dolori addominali all'ospedale della Fratta. La piccola è stata inviata alla pediatria del Sandonato e da qui poi trasferita al Meyer. La nonna, dopo essere stata stabilizzata, è stata inviata in ambulanza a Careggi direttamente dalla Fratta. Le loro condizioni sono stabili. Intanto l'ispettorato micologico del Dipartimento della Prevenzione della USL8 prolungherà fino al 20 dicembre l'apertura degli sportelli micologici, visto anche il prolungarsi della stagione dei funghi. È opportuno ricordare, specifica la ASL8 in una nota stampa, che tutte le intossicazioni registrate nel territorio aretino sono state causate dal consumo dei funghi raccolti da privati e cucinati in casa. Si raccomanda pertanto di non consumare i funghi raccolti prima che gli stessi vengano sottoposti a controllo micologico. Solo il micologo, tramite l'osservazione e la conoscenza delle specie dei funghi, può determinare la loro commestibilità o tossicità. La raccomandazione è chiara, evitare assolutamente mezzi empirici di riconoscimento dei funghi tossici quali la prova dell'aglio, dell'argento, il consumo da parte delle lumache e del sentito dire.